Assessore Roberto Gerundo, possiamo dire che si avvia quasi a conclusione l'iter burocratico per la dismissione dello SMOM? Sì, è proprio mercoledì 9 alle 10 presso la Sala Giunta si insedia la conferenza dei servizi per varare definitivamente la variante al piano regolatore generale. Questa è una struttura abbandonata da moltissimi anni, dal 1980, e che il piano regolatore classifica come area militare e quindi è necessaria una variante urbanistica. Assessore, chi farà parte di questa conferenza dei servizi e dentro quanto tempo dovrà esprimersi in merito? Entro 30-45 giorni a mio parere si potrà concludere, quindi sicuramente direi entro la fine dell'anno. Beh, fa parte lo Stato attraverso l'Agenzia del Demanio che è l'attuale proprietario. Poi c'è ovviamente oltre al Comune di Pozzuoli che è il soggetto proponente la variante urbanistica, c'è il Ministero per i beni culturali perché l'area è vincolata paesagisticamente ma anche sotto il profilo monumentale e architettonico, e poi la città metropolitana perché ha competenze urbanistiche, la Regione Campania perché probabilmente bisognerà fare una piccola modifica al piano paesistico-territoriale vigente per quanto riguarda alcune sistemazioni esterne. Da quanto le dice, l'ITER non sarà breve a questo punto considerando tutti i soggetti in campo e ognuno dovrà esprimersi in merito? La conferenza dei servizi tende proprio a questo, a semplificare le procedure. Abbiamo fatto una variante molto equilibrata, quindi non credo che ci siano particolari difficoltà, è una riqualificazione generale che è prevista appunto dalla manovra urbanistica che ricordo poi dovrà tornare in Consiglio Comunale per la definitiva ratifica, peraltro promuovendo in quell'area non solo attività produttive a carattere turistico ricettivo ma anche un grande parco di uso pubblico e un parcheggio a disposizione della cittadinanza e dei fruitori di quell'area.